Ben trovati al Talk Sicilia, eccoci qua per proseguire il nostro focus sulla Università di Palermo. Abbiamo iniziato le quattro puntate con il presidente dell'ERSU e proseguiamo con un'altra figura istituzionale dell'Ateneo Palermitano, una neo figura che adesso approfondiremo, a cui è stato affidato l'incarico di prorettore alla vita studentesca al professore Francesco Cappello, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi. Professore, ben trovato e la ringrazio. Lei è la seconda figura del nostro focus che ci viene a trovare per cercare, se ci riusciamo, almeno questo è il nostro intento, di vedere un po' come funziona questa complessa macchina dell'Ateneo Universitario. Abbiamo visto il diritto allo studio con il presidente dell'ERSU e adesso parliamo della vita studentesca, che detta così, voglio dire, può sembrare anche un termine aleatorio, la vita studentesca è la vita dello studente in buona sostanza, che però fra l'altro è una figura, è un ruolo nuovo che è nato, mi consenta subito di entrare nel vivo a causa, ma almeno così si dice, del famoso atto di sessismo che c'è stato alla Facoltà di Economia e Commercio. È una figura che non esiste in Italia e quindi questo fa anche onore all'Ateneo Palermitano, se mi dice, perché? Dico, al di là della cronaca, abbiamo detto dell'atto di sessismo, perché nasce questa figura? Cioè c'è talmente bisogno di questa vita studentesca che è tradotto nella sua funzione e cosa significa? Sì, intanto grazie per l'invito, grazie per l'attenzione nei confronti del nostro Ateneo e grazie per questa introduzione. Sì, c'è stato una sorta di sincronismo temporale, nel senso che sono stato nominato al rettore e pro-rettore alla vita studentesca poche settimane dopo che sul giornale è montato questo strano caso, su cui è meglio non ritornare perché è stato assolutamente chiarito. Ma in realtà l'attenzione dell'attuale governance nei confronti degli studenti c'è sempre stata, fin dalla stesura del programma elettorale del professore Midiri con il suo pro-rettore vicario, il professore Napoli. Nel senso che la parola studenti in quel programma è ripetuta tante volte. Io stesso ho partecipato alla stesura del programma del professore Midiri e l'attenzione verso gli studenti c'è sempre stata e l'ha curata in prima persona il rettore anche con altri pro-rettori, con delle deleghe pesanti, pensiamo a quelli al diritto allo studio, al benessere, alle didattiche innovative, eccetera. Il rettore si è accorto a un certo punto che non aveva tutto questo tempo a disposizione per incontrare tutti gli studenti che ne facevano richiesta e per cui mi ha chiesto di scendere in campo in prima persona sapendo dei miei storici rapporti con gli studenti in generale, con il mondo studentesco e di dargli una mano in tal senso. Io sono stato felice perché in Ateneo occuparsi degli studenti, della vita degli studenti è una delle cose più belle. Vita studentesca non è stato scelto a caso. Noi viviamo un'epoca in cui c'è un forte, fortissimo disagio psicologico da parte degli studenti, non solo all'Università di Palermo, in tutti gli Atenei, la conferenza dei rettori delle università italiane ha fatto un tavolo di lavoro permanente dove c'è un delegato del nostro rettore per occuparsi del cancelling psicologico. Il nostro Ateneo da questo punto di vista è uno di quelli più avanti. Sappiamo che il servizio è da migliorare e da potenziare grazie anche all'aiuto e al contributo degli studenti. C'è stato purtroppo un caso di suicidio all'Università di Palermo, purtroppo se ne verificano troppi in Italia e quindi bisogna essere pronti ad ascoltare qualsiasi forma di disagio degli studenti che prevalentemente sono ragazzi in un'epoca di vita, della loro vita, troppo importante. Sono al termine dell'adolescenza, stanno per trasformarsi in professionisti, non possono perdere tempo, non possono bruciare questi anni, devono rendere al meglio, noi dobbiamo essere vicini agli studenti e accompagnarli in questo percorso di crescita, ecco perché vita studentesca. Professore, innanzitutto solo per la cronaca, penso che possiamo essere pure orgogliosi da Palermitana e siciliani, lei è stato a inizio d'anno confermato presidente della società italiana di biologia sperimentale, è una tra le più prestigiose, quindi voglio dire questo ci fa onore, potrebbe essere anche da sprono sotto certi aspetti che il Sud può fare qualche cosa. Chiusa la parentesi. Io la ringrazio, è una società veramente antica e prestigiosa, noi fra due anni andremo a celebrare il centesimo anno di vita della società con un congresso a Palermo e devo dire che sotto la mia presidenza questa società è ancora più vicina ai giovani, i congressi vengono organizzati per i giovani, quindi questa attenzione da parte nostra c'è sempre stata e continua a esserci in tutti i campi. Bene, lei ha già fatto un programma sotto certi aspetti, quindi in buona sostanza lei sarà il megafono verso il rettore delle fra virgolette lamentele dello studente, lo facciamo, mi consenta brutalmente in estrema sintesi, con l'augurio che poi chi di competenza a queste lamentele li trasforma ovviamente in atti poi concreti. Lei ha già fatto, dicevo, un calendario addirittura per tutto il 2023, programmandolo con gli incontri con gli studenti, ha già fatto degli incontri e ne ha, se non ricordo male, programmato uno adesso per il 30 maggio. Possiamo anticipare se c'è qualcosa in agenda, cosa succederà? Penso che questi incontri sono al Santiromano, se non ricordo male. Cosa avete programmato in agenda per il 30 maggio? Allora, è vero che abbiamo fatto numerosi incontri, non solo a Palermo, anche nei poli territoriali di Caltanissetta, Rigento e Trapani. Perché ricordiamo, scusi, che l'Ateneo di Palermo comprende anche queste strutture della Sicilia occidentale. Esattamente, grazie all'interazione non sempre ottimale con i consorsi universitari di queste tre province, l'Università di Palermo ha dei poli territoriali con numerosi corsi di laurea e con grandi potenzialità di crescita, se ci sarà, continuerà ad esserci questa interazione virtuosa con i consorsi universitari. Tornando agli appuntamenti con gli studenti, è vero che si può immaginare che gli studenti facciano delle lamentele. Io devo dire che ho trovato una comunità studentesca molto matura e molto responsabile. e dietro mia espressa richiesta, oltre a denunciare il singolo problema, loro ci forniscono delle possibili soluzioni dalla loro prospettiva. E questa per me è una cosa importantissima, perché noi possiamo immaginare tante soluzioni per i problemi degli studenti, ma chi vive il problema è molto spesso in grado di aiutarci a trovare fin da subito la soluzione migliore. Quindi abbiamo affrontato, oltre il tema di cui abbiamo parlato già del disagio psicologico, altri temi importanti. Ce n'è uno caldo, che è quello della emergenza abitativa a Palermo, è un tema molto complesso. Noi ci arriviamo a questo, io volevo capire cosa il 30 maggio, se c'è qualcosa in agenda, se no andiamo avanti. Allora, il 30 maggio, il prossimo incontro, abbiamo un ospite d'eccezione, che è il professore Marco Trapanese, che oltre a presentare un modello di autovettura a energia solare, che è l'unico in Italia, lancerà un bando rivolto agli studenti per cercare dei piloti, per questa autovettura, per una competizione che si terrà, di ricercatori, di scienziati, che si terrà in Australia nei prossimi mesi. Quindi, come vede, noi non ci occupiamo soltanto dei problemi, delle critiche, dei disagi, ma ci occupiamo anche di offrire delle opportunità di ricerca scientifica, perché è un progetto di ricerca scientifica, ma anche di socializzazione e di svago per la nostra comunità. Diciamo che si sposa con il nostro titolo della trasmissione universitaria a Palermo tra disagi e speranza. Esattamente. Questo lo mettiamo nella speranza. Lo mettiamo senza dubbio nella speranza. Professore, lei è stato, lo cito fra virgolette, gli studenti avranno in me un interlocutore attento e sensibile e le devo dare atto che mi risulta giornalisticamente che è stato ben accolto dagli studenti universitari. Però, le problematiche, io ne ho scritte alcune, ho il dovere di leggerle per la cronaca e vediamo se qualcuna che è viva la sta cercando, come si suol dire, già di metterla al lavoro per cercare una soluzione. E allora, la sicurezza degli ambienti accademici, la fruizione di sale studio per un orario continuato, l'efficienza delle segreterie di studenti, un più efficace coordinamento delle attività rivolte agli studenti internazionali, l'annosa questione dei tirocini di alcune lauree delle professioni sanitarie, la possibilità di svolgere alcune didattiche a distanza, mi fermo. Quante ore abbiamo a disposizione? No, abbiamo minuti che la capacità, voglio dire, se ci riusciamo, di comunicare che abbiamo già aperto la fucina oppure, voglio dire, ancora stiamo pensando, è questa la metafora, stiamo pensando o abbiamo aperto la fucina? Ci proveremo in pochi minuti, intanto preferisco le critiche alle parole celebrative. Io ho tenuto sempre assieme, anche negli incontri con gli studenti, il tema delle aperture serali delle biblioteche con quello della sicurezza. Abbiamo fatto un incontro molto proficuo con l'assessore, professore Maurizio Carta, presso il suo assessorato, molto partecipato da numerosi studenti. Abbiamo identificato quali possono essere le biblioteche, il cui orario può essere prolungato fino a notte. Abbiamo identificato in città un percorso, una specie di T che congiunge via Archirafi al campus e dal Sant'Antonino a giurisprudenza per creare i percorsi per gli studenti, in quegli orari in cui deve essere maggiore l'attenzione da parte delle forze dell'ordine per sorvegliare e quindi dare anche un senso di sicurezza agli studenti. Tutto questo processo è in divenire. Il Consiglio di Amministrazione sta deliberando sull'apertura serale delle biblioteche e subito dopo incontreremo nuovamente il professore Carta per definire le strategie migliori per mettere in sicurezza questi percorsi che vedono nelle vicinanze le residenze universitarie, le mense e tutte quelle strutture e anche luoghi di incontro sociali che gli studenti abitualmente frequentano. Questo è un punto molto importante, professore, perché se è vero che parliamo dal punto di vista sociale e psicologico dello studente mi consente il termine e non si offendono gli stessi studenti, invece di bivaccare, voglio dire, soprattutto per gli esterni in giro per la città oppure non avere alternativa perché anche voi vi occupate di attività di gioco, sportiva quindi voglio dire, se noi riusciamo, se voi riuscite a impegnare lo studente dal punto di vista operativo, culturale, psicologico è chiaro che i disagi sotto certi aspetti diminuiscono ovviamente. Bravissimo. Il Rettore in primis, ma anche ovviamente il sottoscritto, abbiamo spronato gli studenti ad organizzare sempre più frequentemente occasioni ludiche. Il Rettore, ricevendo anche le critiche di alcuni direttori di dipartimento, concede ampiamente spazi presso il campus affinché gli studenti possano organizzare manifestazioni culturali anche ludiche. C'è un progetto di apertura durante i weekend delle biblioteche finalizzato a incontri culturali e anche ludici organizzati dalle associazioni studentesche. Noi crediamo molto nel fatto che questi anni che devono essere spesi dagli studenti e dall'università non debbono essere soltanto anni di studi e di sacrifici, ma anche di divertimento e di instaurare rapporti sociali e crearsi la propria rete sociale che poi ciascuno espanderà e coltiverà nell'arco della sua vita, della sua professione. Quindi questo è un altro tema. Per noi centrali ne abbiamo discusso tante volte con le associazioni studentesche. Professore, tra i punti di criticità che poc'anzi elencavo, mi vorrei soffermare sugli ambienti studenteschi, i disagi che ci sono, la carenza di strutture o strutture esistenti con situazioni, non voglio essere pessimista, ma in certi casi veramente da terzo mondo mi consenta, ci sono dei locali fatiscenti. Non è una cosa che si può risolvere ovviamente nelle 48 ore, però possiamo dare più di una speranza allo studente che le contribuirà concretamente. Avete già un piano di ristrutturazione, questi fondi del PNR così tanto declamati che si rischia molto spesso come altri fondi europei di finire in mille rivoli e poi il cittadino, la società non vede beneficio concreto, lavori infrastrutturali. Cosa abbiamo in pentola? Allora, bellissima domanda, l'interlocutrice giusta sarebbe la progettrice all'edilizia, la professoressa Clara Celauro. Io posso dire che il Consiglio di Amministrazione ha già approvato, ma questo non quest'anno, anche negli anni passati, dei piani per ristrutturazione di numerosi plessi in Viale delle Scienze, questo già si è visto. L'Ateneo è veramente ricco per fortuna e purtroppo di strutture che alcune delle quali sono antiche, stanno per compiere cent'anni, quindi necessitano di manutenzioni straordinarie, ma l'Ateneo sta spendendo bene questi soldi, ne servirebbero per 10 volte. Noi abbiamo dei progetti cantierabili in Ateneo per 10 volte rispetto alle dotazioni finanziarie che arrivano con il PNRR. I soldi però vengono spesi. Io vorrei spendere una parola sul nuovo policlinico. Voi sapete che il Rettore sta spingendo molto politicamente per costruire un nuovo policlinico, finalmente una struttura moderna all'altezza di quelle che sono le esigenze e le richieste della popolazione di Palermo e provincia. E c'è anche l'idea da parte di questa governance del Rettore in primis di convertire l'attuale policlinico in un nuovo campus con aule, sale informatiche, spazi per i studenti, laboratori di simulazione, biblioteche virtuali e quant'altro. Quindi i progetti ci sono, la buona volontà della governance anche, ci sono i fondi del PNRR, non sono tutti questi soldi come si potrebbe pensare, soprattutto dalle nostre parti che per decenni e decenni non hanno visto grandi finanziamenti. Se torniamo al tema delle residenze universitarie, l'ultima residenza universitaria che è stata costruita ex novo, potrei essere smentito, è il Santi Romano che è abbastanza vecchio. Quindi l'idea di poter costruire un nuovo secondo Santi Romano, magari in qualche spazio identificato dal comune, in prossimità del campus, eccetera, potrebbe essere un'idea che risolverebbe anche quel problema che abbiamo già accennato, degli alloggi degli studenti con difficoltà economiche. Certo, però non voglio fare retorica, perché molto spesso è chiaro che i soldi non bastano mai, come si può dire anche in una umile famiglia o anche in una ricca famiglia, non è mai troppo il danaro, parliamoci chiaro. Però la cosa importante penso che sia questa nuova gestione di spenderli bene, perché anche quelle mille euro spese male non arrivano, cioè se noi riusciamo nello spendere ad ammettere l'aria condizionata in una stanza dello studente, mi consenta un po' la retorica. Già io penso che abbiamo fatto un passo avanti, perché molto spesso, come dicevo, è il segnale di come si spendono i soldi. Quindi l'importante è la qualità e penso che oggi o si riesce a fare qualcosa o se no veramente l'Ateneo ricade per i prossimi 30 anni in un baratro, perché lei capisce professore, questi soldi non arrivano ogni 5 anni, quindi saranno pochi, ma se non li spendiamo bene diciamo che per i prossimi 30 anni saremo nel baratro, non so se lei ne conviene. Io ne convengo, devo dire una cosa che non vuole essere un escusazio però, devo dire che io vedo anche quello che succede in altre nazioni, anche in altre nazioni europee, perché viaggio spesso per lavoro, per ricerca e per didattica. Devo dire che in altri posti, in altre nazioni riescono anche ad ottimizzare meglio la spesa dei fondi, forse perché hanno meno burocrazia rispetto a quella che abbiamo in Italia. Ripeto, non vuole essere una giustificazione, ma è una realtà per chi viaggia e per chi si confronta con altre realtà in ambito europeo da sotto gli occhi di tutti. Assolutamente no e condivido e sottoscrivo la considerazione. Professore, ci stiamo avviando alla conclusione. Lei ha parlato con gli studenti, perché lei mi pare che è da fine anno, quindi possiamo dire quattro mesi un po', che ha assunto questo ruolo di prorettore alla vita studentesca. Avrà incontrato ovviamente centinaia di studenti. Possiamo sintetizzare velocemente in tre punti quali sono, fra virgolette, le istanze che hanno denunciato in questi quattro mesi? Quali sono le tre richieste che dominano ovviamente e su cui penso lavorerete sin da subito? La prima è quella di digitalizzare maggiormente i servizi, la burocrazia, tutto ciò che riguarda le segreterie studenti e ci stiamo lavorando. Il dottore Uccello, che è il dirigente del sistema informativo dell'Ateneo, è in prima linea su questo obiettivo, sta lavorando di concerto con i dirigenti delle segreterie studenti e penso che sarà un obiettivo raggiunto. Il secondo tema è quello della sicurezza, che abbiamo già trattato. C'è un terzo tema importante che non abbiamo ancora toccato ed è quello del rispetto che gli studenti chiedono al corpo docente. Può sembrare una cosa scontata. La stragrande maggioranza dei docenti tiene veramente un atteggiamento paternalistico nei confronti degli studenti, non tutti purtroppo. Questo è qualcosa che va attenzionato maggiormente perché la mancanza di rispetto è anche la peggiore forma di educazione che noi possiamo dare ai nostri studenti. ringraziamo il professore Cappello, è stato molto esaustivo e mi complimento per la capacità oratoria, se mi consenta il giudizio molto sintetico e efficace. Noi ringraziamo, ripeto, il professore Cappello e rinnoviamo l'appuntamento con il focus universitario alla prossima puntata che avremo ospite, il magnifico rettore dell'Università di Palermo. Buon proseguimento con i programmi.